Siamo tornati al Second Life Retro Game e siamo qua con Cicciuzzo e Destro Ma Cicciuzzo non sa una cosa Oggi sarà il protagonista di questo contenuto Sei contento? Sì 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 Praticamente funziona così Io e Destro abbiamo un piccolo budget Ma devi decidere tu una cosa Preferisci che io e Destro selezioniamo O Fai tu Voglio vedere cosa tirate fuori voi Dai sono curioso Scegliamo noi Però devo provare poi No Queste? Sì Hai deciso queste? Sì sì O queste di Stry Spider? No no queste qua di questo numero Ok In questa cosa ne pensi Cicciuzzo? Io che episodi sono? Eh non lo so Una bella lezione L'uomo della discordia è il giardino dei misteri Scusa non ho capito perché hai selezionato questi giochi per Cicciuzzo Non capisco la questione Scusa Serve un gioco con un divano Cicciuzzo mi avevi detto che volevi Hogwarts Legacy ma questo non mi sembra Come si chiama? Scusa di potere 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 Allora hai trovato il gioco con Cicciuzzo Non è molto diverso da questo comunque Posso dire una cosa a tutte e due Scusa di potere Scusa di potere Scusa di potere Scusa di potere Eccolo No non prendo questo in realtà Cosa prendi? Prendo questo Va bene va bene Prendo questo Via per il primo bill A posto Sei contento? Tantissimo È quello che sognavo da una vita Scusa di potere